Grazie Presidente, ma solo per dire velocemente che di fatto questa mozione chiede di attivarsi immediatamente per conseguire, io direi che la mozione è già in atto perché il lavoro che si sta facendo rispetto al contratto di servizio per risorse per Roma è già in stato avanzato, ho avuto rassicurazioni anche di recente sul fatto che è imminente la stesura e la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio che ha come obiettivo quello che è riportato nella mozione, vale a dire la riorganizzazione e la garanzia dei servizi che risorse per Roma già assicura e una soluzione per avere il pieno livello occupazionale dei dipendenti. Per cui non abbiamo nessuna difficoltà come maggioranza a associarci e votare sì alla mozione presentata perché, ripeto, lo consideriamo un lavoro non solo in itinere ma in fase di avvio alla conclusione. Grazie. A lei consigliere.